Il tema della mostra è le gambe con Chiavari. Le gambe con Chiavari, sì. Infatti ci sono ancora altri quadri più belli, forse, di alcuni che sono qui, che non è stato possibile esporli, perché l'impianto anche non è facile. Non si può mettere un quadro di due metri, capisci, per 150. Ci sono delle opere in particolare che lei preferisce, che ha più a cuore? Sì, sono quasi tutte. Se siamo pittori, allora qui c'è veramente il massimo, quasi. No, ma ne manca tanti, manca molti quadri che sono a Mantua, che sono a Parma, che sono alla pilota di Parma, a Piacenza, tantissimi. Questa è una collezione un po' riunita, forse, verso il territorio, orientata verso i collezionisti genovesi, chiavaresi in particolare, che non si sa perché hanno comprato queste cose qui a suo tempo. In che modo Chiavari l'ha aiutata, l'ha ispirata nella sua arte? Sì, Chiavari mi ha sperato sempre, cioè sono nato, allora è una mia città. Però io ho vissuto 50 anni a Milano e il grosso collezionismo ce l'ho a Milano, cioè con gli amici dell'informale, con grossi nomi anche come Chigine, come Morlotti, come tutti i nomi prestigiosi nel panorama dell'arte di oggi, del Novecento, che dove adesso tutto sta scomparendo, ecco, tutto si risolve, si risolvono le epoche, si risolve il linguaggio e soprattutto l'allontanamento dello sguardo proprio fra un artista e l'altro, non c'è più l'interesse che avevamo allora di riunirsi, di trovarci, di parlare, perché queste cose vengono fuori anche da quello, dalla cultura.